Ancora nubi nere sul progetto di realizzazione di un parco urbano nella zona di piazza d'armi perché l'autorità anticorruzione Lanac ha bocciato gran parte delle modalità con cui è stato affidato l'appalto all'area alto costruzioni ed evidenzia pure molti dubbi su come si è arrivati alla variante del progetto che ha fatto lui evitare i costi dei lavori. A svelarlo è stato il quotidiano il centro, un'altra tegola quindi si abbatte sulla riqualificazione dell'area. Si ricorderà, e anche Reteotto se n'era occupata, come poco tempo fa la giunta comunale avesse nominato un collegio consultivo tecnico per sciogliere i nodi sull'appalto e sull'affidamento dei lavori per realizzare il parco e già allora si era capito che c'era più di un problema. Lanac in pratica sostiene che il primo progetto esecutivo redatto dalla ditta va a modificare in modo consistente il primo approvato dal comune facendo aumentare il costo dei lavori. Il progetto per Lanac non andava approvato e Ruppa avrebbe dovuto risolvere il contratto e invece si è data la possibilità di far presentare un nuovo progetto che la ditta ha fornito a fine gennaio 2019 con importo dei lavori aumentato addirittura sino a quasi 23 milioni di euro. Per i progettisti nel progetto originario mancavano alcune relazioni essenziali, questa la motivazione. Sott'accusa anche la mancata bonifica del suolo per Lanac in quanto nell'area c'era un vecchio deposito di carburanti di mezzi militari e successivamente l'area ha lasciato spazio alle maciere del sisma. La possibile contaminazione per l'autorità non avrebbe consentito di attestare la realizzazione del progetto, ma questo non compare in nessun verbale. Lanac chiede al Comune di monitorare la procedura di concordato preventivo avviata nei confronti dell'aria alto a febbraio del 2019 ai fini della prosecuzione del contratto in essere. Lanac fa pure notare che rispetto alla presentazione del progetto originario della rimodulazione successiva risulta essere ancora in corso la procedura di verifica della progettazione esecutiva da parte peraltro di una società diversa. La vicenda è spinosa, il progetto parte dal primo concorso di progettazione bandito dal Comune, prevedeva un auditorium di 900 posti su più livelli, con parcheggio interrato, aria giochi, aria sport e piazza, tutto nel verde. Ad aggiudicarsi l'appalto fu l'aria alto, con un ribasso a base d'asta del 60% circa. Sul procedimento fu aperto un fascicolo dall'Anac, ma non fu rilevata allora nessuna anomalia sull'offerta. Poi la storia nota, i progetti, il concordato preventivo dell'aria alto a dicembre 2019 e una storia infinita, con l'opera che sembra sempre più lontana. Ora si dovranno capire le mosse dal Comune, che oggi ha inteso non commentare. Grazie a tutti.